I temi del mio intervento volevo fare una presentazione rapidissima della dotazione dei nostri servizi e rimanere quindi sul campo della praticità più concreta rispetto alla gestione dei piani di welfare aziendale. Non mi dilungo più di questa slide che vedete per dirvi che nella nostra impostazione andiamo dalla gestione dei programmi di flexible benefit organizzati, gestiti e monitorati attraverso un portale dedicato, la gestione dei fringe benefit attraverso la loro voucherizzazione mediante titoli spendibili come buoni e spesa, voucher incentive su reti multi-retailer. Ci occupiamo di servizi time saving come il maggiordomo aziendale e infine creiamo reti, prima ne abbiamo sentito parlare di alcune aziende, reti di convenzioni con carte sconto e soprattutto reti che superano questo stesso servizio di carte sconto e tutte le convenzioni aziendali di cui abbiamo sentito fare menzione stamattina attraverso la più moderna delle soluzioni che è l'utilizzazione di reti nazionali con un servizio di carte cashback. Lo vedremo alla fine di queste mie slide, mentre tornando al contributo che io intendo dare oggi spero si possa sottolineare attraverso quello che vedrete quanto la tecnologia è utile ai fini della realizzazione e del successo del piano di welfare aziendale perché se il piano di welfare aziendale non ha successo evidentemente l'azienda non raggiunge i suoi obiettivi, i suoi target di saving e di riduzione del cuneo fiscale che poi rappresenta evidentemente il principale di questi target che si prefigge l'impresa e un'altra lettura che vi proporrò e che vedremo tra le righe di quello che dirò è il mettere insieme le competenze e le conoscenze che i due mondi del welfare, il welfare pubblico e il welfare aziendale possono far coesistere. Io sono contento di vedere che nei propositi del governo Renzi è notizia di stanotte praticamente, ha twittato la nascita di questa consultazione che riguarda il mondo del terzo settore, è vero, ma contiene degli importanti messaggi relativi al fatto che il welfare aziendale e il welfare pubblico si guardino. Un vero provider che si occupa di welfare aziendale e di welfare pubblico, come nel nostro caso, deve saper far incontrare da un lato l'offerta dei servizi di welfare che si incontrano sul territorio e che noi incontriamo tutti i giorni operando nel settore del welfare pubblico e le domande di servizi di welfare che promanano invece dalla popolazione aziendale, quindi dai piani di welfare aziendale. L'incontro di questi due mondi è estremamente virtuoso. Virtuoso, come mi auguro, possa essere considerato il circuito dei servizi che organizziamo. Bene, l'agenda del mio intervento è questa. Come ottimizzare da un punto di vista operativo tramite il web il piano di welfare aziendale, come aggregare offerta, come dicevo, per dare più valore al piano di welfare aziendale, come animare un piano di welfare aziendale che necessita di un marketing dedicato, sul quale io non mi soffermerò oggi per evidenti ragioni di tempo, e come poter raddoppiare l'effetto dei French Benefit sfruttando un'altra tecnologia molto moderna e molto in voga che è quella delle carte cashback. Allora sappiamo che il piano di welfare aziendale ha stanziato, ha trovato attraverso varie formule la liberalità, la negoziazione bilaterale, oppure la autoalimentazione del piano attraverso i saving che i piani precedenti hanno generato e che molte aziende rimettono nel budget del piano di welfare successivo. Queste risorse vengono stanziate e allocate nei vari servizi di welfare aziendale, che possiamo riassumere in queste tre macro aree del work-life balance, dei servizi alla persona e di sanità e previdenza che tutti i contratti nazionali prevedono, quindi sanità integrativa e previdenza complementare. Ma tutto questo mondo complesso di servizi, ricco di servizi, ovviamente tanto più l'azienda è grande e tanto più è vero quello che sto per dire, genera un notevole carico di lavoro amministrativo e operativo all'interno dell'azienda se non ho messo al centro di questo progetto la possibilità di sfruttare le potenzialità di un portale. Portali ne esistono ormai un certo numero, nella nostra impostazione come vedrete questo portale è particolarmente ricco di servizi che si linkano in mondi assolutamente coerenti con le esigenze di welfare. Questo è uno schema riassuntivo, vado velocissimo, dove come vedete l'azienda ha tramite noi assegnato a ciascun dipendente un welfare wallet, quindi un portafoglio spendibile virtualmente nei servizi di flexible benefit che saranno organizzati da ciascun dipendente sulla base delle sue necessità e quelle della propria famiglia, organizzate nelle quattro classiche tasche di spendibilità del budget di welfare. Supponiamo di volerci dedicare all'ambito della famiglia ed in questo caso di vederci comparire la pop-up che ci consente ad esempio di chiedere il rimborso dei testi scolastici. A questo punto con tre semplici passi il lavoratore sarà sufficiente dopo che ha effettuato l'acquisto, sarà sufficiente che scannerizzi il documento fiscale che comprova questo suo acquisto, che lo posti nel suo ambiente a portale creato nominativamente e individualmente per ciascun lavoratore affinché lo stesso documento venga validato dal nostro back office o dai back office dei nostri outsourcer e evidentemente autorizzato quanto alla generazione da parte del portale in automatico di un flusso che va al payroll dell'azienda affinché questa possa effettuare il riaccredito del corrispondente importo. Quindi è sufficiente caricare i dati fiscali e andare avanti con queste semplicissime videate che sono assolutamente user friendly come potete rendervi conto. Caso invece, sempre in ambito family, degli operatori socioassistenziali, quindi parliamo dell'assistenza domiciliare e in questo caso, come ci hanno spiegato anche adesso, la possibilità di rendicontare l'acquisto non è consentita dalla normativa fiscale che risale a tempi in cui, diciamo così, non si pensava di dover intervenire con il welfare aziendale come si sta intervenendo. Sono norme obsolete che anzi risultano assurde agli occhi di chi si occupa di questo, ma non di meno sono le norme sulle quali dobbiamo fare conto. E' assurdo che il lavoratore non possa effettuare direttamente questo acquisto. I libri di testo sì, ma l'acquisto delle ore di assistenza domiciliare le deve fare direttamente l'impresa o meglio le fa il provider per conto dell'impresa in favore del terzo che è il lavoratore. In questo caso allora l'attività a portale è quella di collegamento o tramite web o via call center per la richiesta dell'acquisto delle ore di assistenza. Acquisto delle ore di assistenza però che a questo punto anziché essere effettuate dall'azienda per 200 o per 500 dipendenti con 500 fatture diverse di altre tante cooperative che effettuano il servizio sarà invece riassunta in una fattura che farà direttamente il provider, quindi che faremo direttamente noi. Quindi questi sono i principali servizi di back office che garantiamo. L'outsourcing della gestione finanziaria e l'integrazione con i sistemi di payroll sono la cosa più importante per le imprese, l'archiviazione elettronica e l'invio telematico mensile della documentazione del dipendente è pure un servizio estremamente importante e la gestione del processo di assegnazione del benefit. Prima si è detto, gli avvocati ci hanno detto che l'adesione o meno al piano di welfare deve essere preliminare al piano di welfare. Questo è un caso in cui poi questa adesione già raccolta può essere formalizzata e evidentemente chiarita in termini informatici quanto alla quota da sparare sul payroll perché venga pagata cash e quanto invece da imputare a welfare wallet perché venga poi organizzata nei flexible benefit fruibili direttamente online. Quindi nessuna attività operativa a carico dall'azienda cliente, questo è il messaggio che volevo far passare. Per quanto riguarda invece l'erogazione dei servizi ai dipendenti, qui la cosa più importante da sottolineare è la possibilità di monitorare sempre in tempo reale per il lavoratore l'andamento del suo wallet rispetto al budget individuale che gli è stato assegnato e la possibilità di aggiornando quindi il suo saldo di consumo dell'importo che gli è stato assegnato, il download delle certificazioni fiscali e la funzione di total reward statement che consente al lavoratore di vedere e all'azienda di dimostrare, cosa molto importante, di verificare quanto l'accesso al servizio di welfare garantiti dal piano di flexible sta dando in termini di risultato economico migliorativo rispetto all'erogazione cash. Prima abbiamo visto questa pagina degli operatori social assistenziali nell'ambito di un piano di welfare aziendale, non è una pagina che si presenta così sul portale ma contiene una serie di ricchezze che sono quei link, quelle sinergie di cui vi dicevo all'inizio. L'arricchimento di un piano di welfare aziendale presuppone che cosa? Il mantenimento da un lato della massima libertà da parte del dipendente che presceglie i fornitori dei servizi che servono a lui e alla sua famiglia in maniera del tutto libera, continuerà a servirsi e a operare con la cooperativa che si occupa dei suoi genitori anziani, faccio un esempio, ma può utilizzare una serie di pacchetti che noi possiamo mettere a disposizione del piano di welfare aziendale alimentandolo con delle ulteriori opportunità sfruttando le sinergie che noi abbiamo con i nostri partner. Uno di questi è privata assistenza e quindi lavoriamo nel settore dell'assistenza domiciliare in particolare. Un altro importante partner, poi vedrete perché entrambi lo sono, è Copselios che invece è una grande cooperativa che si organizza soprattutto sul fronte dei servizi per l'infanzia e per i minori, pensiamo ai campus estivi. Medicina privata che è la più grande rete nazionale di strutture sociosanitarie alle quali attraverso questa carta che noi inseriamo nei piani welfare aziendale si accede con scontistiche estremamente elevate, fino al 50% inclusi moltissimi studi dentistici. Pacchetti di vario tipo che vedete noi possiamo organizzare, oltre ai partner che avete visto ce ne sono tantissimi sul territorio che ci derivano dalle competenze nate sul fronte del welfare pubblico e che coprono le due aree del family care e della non autosufficienza, diciamo le aree dei lavoratori che hanno un carico familiare importante cui dare risposte. Ecco questo è un caso interessante, Reggio Emilia è un'area provinciale intera servita in sinergia tra noi e i nostri due partner che vi ho citato, in questo caso con un piano di welfare aziendale letteralmente plug in per tutte le imprese della provincia, hanno già aderito un certo buon numero di società, che coprono facilmente e immediatamente le tre aree che vedete, quindi servizi per gli anziani, servizi per i figli e la gestione o meglio il sostegno, il sostegno al reddito, il sostegno al potere di spesa dei lavoratori attraverso carte e voucher. Un'altra ipotesi di link, un'altra ipotesi di rete è la rete nella rete, sono sul web ma attraverso il portale di welfare aziendale che abbiamo strutturato possiamo linkarci ad un altro portale assolutamente di servizi specifici per la famiglia che sono questi che vedete qui, cioè il supporto alla gestione delle pratiche relative alla successione e a tutti i contratti di lavoro domiciliare, in particolare le colfe, le badanti oppure le babysitter, tutto il tema dell'assistenza, lo vediamo meglio qui, tutto il tema dell'assistenza delle prestazioni assistenziali della consulenza in materia di accesso ai servizi di welfare pubblico piuttosto che tutta l'analisi e la gestione dei servizi previdenziali, tutto questo gratuitamente per i lavoratori passando attraverso i servizi gestiti da un portale che è collegato al portale Well Care Family gestito dal sistema delle ACLI, ovviamente anche servizi accessibili sul territorio dato che le ACLI hanno una rete molto vasta di sedi presso le quali questi servizi sono poi fruibili. Come vedete sono numerosissime attività gravose, spesso foriere di grandi perdite di tempo sul fronte del lavoro che invece possono essere risolte direttamente online con uno scambio di mail e con la compilazione di forme. L'animazione è importante perché serve ad aiutare a vendere letteralmente il piano all'interno dell'azienda, a venderlo da parte del datore di lavoro che ha interesse a vedere la massima partecipazione al programma, soprattutto laddove ci siano una serie di servizi trattati fiscalmente in maniera idonea rispetto alla riduzione del cuneo fiscale. Ebbene tra gli elementi del welfare vi è anche lo svago, vi è anche la ricreazione, noi abbiamo la possibilità di erogare un coupon direttamente online dal portale che consente di accedere ad una rete di partner, questi sono soltanto un 20% della rete disponibile che è in tutta Italia dove i lavoratori attraverso quel coupon avranno diritto per sé e per la propria famiglia ad avere degli sconti sull'accesso a servizi che possono essere questi dei teatri, dei cinema, dei parchi a tema per i ragazzi e il tutto ovviamente verificabile e gestibile tramite una comodissima app che vi invito anche a scaricare. Il voucher stesso, cioè la tasca dei 258 euro di French Benefit di quell'articolo 51,3 è trasformabile in una serie di titoli che contengono dei coupon che sono dei buoni sconto che viaggiano come optional del carnet che contiene i voucher e che consentono di rafforzare ulteriormente il potere di spesa dei lavoratori. Vedremo poi dopo come raddoppiare questo potere rispetto al French Benefit. Questa è la vastissima rete presso la quale sono spendibili, anche essa identificata poi da una app apposita. Salto questa perché ve ne parliamo allo stand, se non per dire che ci sono 1700 parchi a tema che aspettano i figli dei vostri collaboratori, salto anche la parte dei buoni acquisto digitali, anche se è molto carina perché è linkata direttamente al portale, posso trasformare il French Benefit in qualcosa di spendibile direttamente sui principali siti di e-commerce, penso a Zalando, tanto per fare un esempio, e vengo alla novità. La novità è questa, allora c'è l'all fashion, lo facciamo anche noi, c'è la rete delle convenzioni che l'azienda aveva, sa, però poi non si ricordano nel negozio che presentandomi col badge io ho diritto a quello sconto. Comunque le carichiamo, le georeferenziamo, le mettiamo lì, i lavoratori se le ritrovano, l'azienda è contenta e magari le incrementiamo per numero, le sfaccettiamo su maggior numero di categorie merceologiche, le identifichiamo comodamente con una vetrofania e rendiamo il tutto accessibile con una carta sconto speciale. Ma tutto questo è superato, è superato dal fatto che l'azienda può utilizzare uno strumento, in Italia strumenti di questo genere sono oggi in circolazione in numero di 16 milioni di pezzi, non i nostri, ma i nostri sono una piccola quota, ma ci sono 16 milioni di pezzi di carte cashback, cioè di carte che circolano su una rete presso la quale il lavoratore con i suoi soldi, l'azienda gli fornisce soltanto lo strumento, il supporto plastico, il lavoratore è in grado di recuperare una parte importante di quanto spende annualmente. Ora vedremo qual è questa parte e verificheremo che questa parte che recupera sostanzialmente è il raddoppio della soglia del French Benefit e dei 258,23 euro famosi del TUI. Questa rete è una rete che è stata creata da noi ed è stata creata per poste italiane con le quali abbiamo una forte partnership, è una rete che abbiamo disegnato anche sui marchi del nostro gruppo, si chiama Torna Qui Sconti e in questa rete che è fatta di 27.000 negozi, non i 100 negozi convenzionati nelle sette città dove abbiamo la sede, in questi i merchant convenzionati, la possibilità è quella di ottenere uno sconto medio del 10%, uno sconto che però non è sull'acquisto ma è un riaccredito del 10% di quello che ho speso, cash back. Siccome la carta è caricabile fino a 2.500 euro all'anno, questo tipo di soluzione consente mediamente all'anno di riottenere 250 euro in forma di cash back completamente fuori da qualunque vincolo o paletto di tipo fiscale o previdenziale. Qui stiamo parlando di un'operazione alato del piano di welfare aziendale, di una tecnologia collaterale a quelle che vengono utilizzate per gestire il piano di welfare aziendale ma assolutamente coerente con le sue finalità e molto nuova. Ecco perché si può sostanzialmente parlare della capacità di uno strumento di questo genere di raddoppiare il French Benefit, la soglia del frame bank. Carte che possono essere personalizzate, carte che possono essere vestite in maniera coerente con la corporate image dell'azienda, possono quindi avere la livrea aziendale pur non essendo carte aziendali perché ripeto sono carte alimentate dal punto di vista finanziario con i soldi dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce soltanto lo strumento e ci sono dei casi anche di aziende importanti o di pubbliche amministrazioni importanti, ci sono casi anche interessanti dal punto di vista delle finalità sociali, questa che vedete è la carta della fondazione Simoncelli che tutti purtroppo abbiamo imparato a conoscere per via dell'incidente, ebbene qui la famiglia Simoncelli ci ha commissionato una carta con la quale tutti coloro che la utilizzeranno genereranno attraverso i loro acquisti una quota parte dell'interchange fee, cioè della quota che viene scambiata utilizzando la carta, destinandola automaticamente all'associazione intitolata allo sfortunato pilota che si occupa di soggetti che hanno subito traumi rilevanti nel corso di incidenti. Quindi c'è la possibilità di linkare la carta che raddoppia la soglia del French Benefit che viene data ai lavoratori anche perché l'azienda possa gestirsi sulla stessa carta delle iniziative di carattere sociale, rendi contabili nel bilancio di responsabilità sociale di impresa, ecco perché in alto ho parlato di carte ricaricabili, multifunzionali dove una delle funzioni della carta è l'alimentazione del programma di responsabilità sociale di impresa, perché posso destinare una quota di questi riaccrediti di cashback a finalità sociali, alla fondazione del mio gruppo, ad iniziative che comunico ai lavoratori motivandoli ancora di più dal punto di vista poi dell'utilizzazione di questo supporto. E il welfare aziendale sappiamo bene è uno degli elementi, forse uno dei principali elementi degli impegni che le aziende assumono quando fanno veramente e non soltanto per immagine responsabilità sociale di impresa. Con questo io ho concluso, vi ringrazio molto della vostra attenzione e credo che adesso Chiara ci inviterà ad una prova pratica di una delle più antiche forme di welfare, la ristorazione. Grazie.